ciao a tutti i ragazzi studio camurrina ed istituto furold mi trovo di nuovo qui ho preso l'autobus 75 che mi ha portato direttamente dall'hotel qui sono molto rilassato rispetto alla giornata di ieri molto stancante mi trovo qui mi auguro da solo buona lezione vi auguro buona giornata l'arte vive dentro ognuno di noi ciao un abbraccio un saluto da studio camurrina dell'istituto turoldo ciao ragazzi